Che ne diresti di un bel porcellino arrosto con le nere? Porcellino arrosto? Oh sì, possiamo, 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 possiamo! Eh, ma vedi, ma adesso caldo! Sei un idiota? Sei un idiota? Come fa, Grisby? Tutto bene? Allora, chi ha vinto la sfida? Normalmente abbiamo vinto noi! Sono stata io a toccare per prima il terratto in cima e Ursus ha notato l'antennatrice dei soliti imbrogioni!